I will be the one to let it go Mmm, un calderone Uno stufato Non l'avrete finito così, però ok Bisogna salire là sopra per ottenere l'esperienza, a quanto pare Saliamo Non è che ci vuole tanto, sta fa così Tac, cosa? Vai, vai, vai Ok, perfetto Poi credo che una cassa qua ci possa aiutare Più di tutto ciò che Se avessi fatto bene una cassa, diciamo S'è stato utile Però a quanto pare no Ok, così E cosa? Perfetto Andiamo avanti Sendiamo questo checkpoint Vediamo un pochettino Ok, così possiamo spostare lo specchio A quanto pare Se lo colpiamo, il corpo attraversa Vediamo un pochettino Ok Si muove a seconda di dove lo vogliamo mettere Se noi lo mettiamo qui, cosa succede? Se facciamo attraversare da questo grande masso Ok Spocchiamolo qua Dove c'è la cosa E si apre la porta Ok, interessante Va bene Andiamo avanti Un ragno Congelato 3-4 colpi Per distruggerlo Non c'è altro punto Dove attaccarsi? No Qua non possiamo attaccarci Andiamo avanti Ok Eh, però non sta bollendo Quindi Giustamente Non Non ci pare neanche attaccare Ok Comunque Tanto io sto aprendo qua Vi lascio Un po' ascoltare Le magiche cose di Trine Attacchiamo così Dovemmo riuscire a passare? No, in teoria In teoria sì, però no Ah, non è stata eccellente Forse Allora, così Non vertiamo qui E poi Ok Ah, Gesù Così, so Passa, passa qua Ok Ci serve di Poterci spostare Da quel lato Perfetto Brava Zoya Tu riesci ad attraversare Sempre come voglio le cose E poi qua Dobbiamo fare così Dovrebbe riscaldarsi Vai Ok E crea le bolle Giustamente Perfetto Abbiamo la possibilità Di controllare Due portali Allora Se io voressi Prendere tutta la roba Che deriva dai portali Dovrei fare così Forse Sì Vediamo un pochettino C'è tutta quella parte Che deriva dai portali Ehm Non ha funzionato esattamente Come intendevo Potremmo andare avanti Così Vediamo cosa succede Non è andata come volevo Ok Si attraversa le bolle Però non va esattamente Come vorrei Cioè La bollea attraversa Non va Come vorrei Ehm Andiamo qui Ehm Più basso Vediamo così E questo Abbassiamo ancora di più In teoria Dobbiamo raccogliere anche gli altri Però Quello Non si può risolvere Più facilmente In un certo senso Uh saliamo di livello Quanti potabilità Uno Quindi non possiamo Prendere nulla Teniamo così Ok Però adesso Dobbiamo fare il contrario Quindi tipo Cioè Noi no C'è più che fare il contrario Dobbiamo alzare uno Ok E l'altro Forse così Però una Come la raggiungiamo Quella sopra Posso fare anche così Molendo Però non raggiungo Quella sopra Fammi accogliere Ok perfetto Possiamo continuare Qui sotto Qui sotto C'è qualcosa Non posso neanche staccare Non posso neanche staccare Prevedo di no Non ci sia ciò che cerco Quindi andiamo avanti Però qui No Non posso distruggere Quindi Proseguiamo Ok Ok Interessante Più o meno Vorrei vedere se ci sono Ciò che mi interessa Ok andiamo avanti Non può rampicarsi Nessuna parte Se non ha quel Punto No Rampino potente Ma non troppo Freccia casuali Perché No Sono frecciato Il coso Dai Su Cotiviamo Creati bolla Così Così Se si salta Si fa prima Dai 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 Oddio No Cotivare abbastanza vita Per resistere Almeno a quel colpo Creati bolla Cioè Entro domani No Ok Va bene No perché Ok Ragazzi Tagli un secondo Ecco Ci siamo arrivati Finalmente Ok Continuiamo Nope Ok Sasso Qui così Perfetto Sto già sarebbe possibile Fare una cosa Devo oscillarmi però meglio Secondo voglio provare a farla No È È un acumen Proprio Dovete fare Così E Vabbè No Ti c'è un altro oggetto Quindi probabilmente Era un'altra cosa Sono un pirla Scusate Io vado a controllare Se sta però registrando Un subito Ok Perfetto Si sta registrando Quindi Continuiamo Facciamo questo enigma Che è l'ultimo Dell'episodio Piano Vediamo un attimo Se c'è un enigma Extra Da far vedere Che di solito C'è Tipo nei punti In cui uno Vaino Vorrebbe Andare a scoprirlo Però esiste Quindi Possiamo far vedere Quello Però non credo Perché manca Un minuto Per i dieci minuti Strange Vediamo In teoria sarebbe Possibile raccogliere tutto Mettendone una in alto E l'altra in basso Così arriva anche La corrente d'aria Se io la metto Qui La corrente d'aria Arriva tutta Vediamo un attimino Com'è Il lavoro Che fa sta corrente d'aria Mettiamo questo Oggetto qui Una tavola da surf Poche parole Mago surfista Peccato che non si possa Sollevare per Situation Le varie cose Adesso Così Vediamo Nope Non ha funzionato come volevo Anzi Stava dando tipo Problemi strani Io mi faccio questo Vedete che Vado tranquillo Sopra Non sta funzionando come volevo Che bastardo sto gioco Però se io faccio così No Va bene Ok Continuiamo Così E vedi che tutto si risolve Vedete che le tavole sono P Vedete Facciamo Questo combattimento Senza morire E concludiamo Qua l'episodio Perché siamo arrivati Già a buon punto Senza morire Ho detto Ok Uno Due Tre Spamming Attacchi Uno Due Tre No Tornare qua sopra È impossibile morire Praticamente No Lascia di Ok Perfetto Muori Ma tu colpo Non ci sono altri nemici Interessante Come si sono uccisi L'ho portato giù però Ok Tu cadi a terra Vediamo se manca qualcun altro Si Banca lui Aspetta Perfetto E abbiamo concluso Beh Per questo episodio Che dovrebbe sia tutto Vi ricordo di iscrivervi Commentare Lascia un mi piace Se vi è piaciuto il video Se non vi è piaciuto Ditemi perché Io sono Leone Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti